pronto vittorio del fuoco aiutateci c'è stato un terremoto a pescara del pronto si lo so stiamo arrivando com'è la situazione è quella di tutto è quella di tutto è un bambino piccolo dove? da la porta, da sotto da sotto, comunque adesso stiamo arrivando signora stiamo arrivando è stato un terremoto a pescara del fuoco un terremoto a pescara del fuoco un terremoto a pescara del fuoco Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.